Borghi italiani, cuore della nostra storia, del nostro patrimonio, della nostra identità. Luoghi dove affondano le nostre radici, dove nascono le nostre storie, dove in fondo sogniamo di tornare. Dare nuova linfa a questa irrealità è la nostra missione, per i cittadini di oggi e per quelli di domani. Per il loro futuro e per quello del nostro paese. Il gruppo FS, lavorando a stretto contatto con i territori, ha ideato un progetto per valorizzare le stazioni ferroviarie, trasformandole in centri multiservizi digitalizzati, a disposizione dei cittadini. Spazi che riprendono vita e che restituiscono energia. Spazi moderni, efficienti e innovativi, che sanno di futuro e parlano al presente. In un territorio fiero delle proprie origini, delle proprie tradizioni, dei propri ricordi, della nostra identità. Cuori pulsanti per un nuovo modello di comunità.